A loro vengono guardate per la proposta e per la sospensione di un'altra cosa. E' un salve russano, per la proposta per la proposta per la proposta per la proposta. Vengo! Vengo! Alle spalle! Vieni! 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 E' in porta, fai gli ordini! E' in porta! Fai la presa! Nicola parla! Fai la saccare! Corso il cuore! Corso il cuore! Corso il cuore! Corso il cuore! Vai! Vai! Corso il cuore!